Ciao a tutti, sono Marco Moscheritro e siamo qui oggi per vedere come realizzare una prima applicazione utilizzando AngularJS. Innanzitutto AngularJS è un strumento, un framework JavaScript nato per semplificare la realizzazione di quelle applicazioni che fanno un utilizzo estensivo del JavaScript client-side. Andiamo quindi a iniziare il nostro progetto utilizzando una serie di tool che ci permetteranno di velocizzare la realizzazione di applicazioni. Ci tengo a precisare che questi tool non sono indispensabili per realizzare un'applicazione in AngularJS. AngularJS è un'applicazione che può essere realizzata utilizzando tranquillamente un editor di testo e creando appunto dei file JavaScript da utilizzare all'interno della nostra pagina web. Questi tool però ci permettono di velocizzare il nostro flusso di lavoro e migliorare la qualità di quello che andiamo a procurare. Inizialmente è necessario installare NodeJS. NodeJS è uno strumento che permette di esibire il codice JavaScript non all'interno di un browser ma all'interno della nostra macchina. Un secondo strumento che è importante per realizzazione di applicazioni è Bower. Bower è un package manager che si occupa di gestire le dipendenze tra file JavaScript file CSS. Quindi all'entrata nella nostra applicazione possiamo definire tutta una serie di strumenti di dipendenze che verranno incluse nel momento in cui la nostra applicazione verrà compilata. Un altro strumento che viene utilizzato è Grunt. Grunt è un task runner che permette di eseguire una serie di operazioni scriptandole in JavaScript. Un ulteriore strumento che verrà utilizzato è Human. Human è un insieme di Grunt e Bower che abbiamo già velocemente visto e You. You è uno strumento che permette di effettuare lo scaffolding nella nostra applicazione. Dovendo realizzare un'applicazione utilizzando AngularJS esiste un altro elemento che va installato che è il generator Angular che permette appunto di fare scaffolding di applicazioni in AngularJS. Infine, quello che andremo a utilizzare per eseguire una serie di test sulla nostra applicazione è Karma. Karma è un test runner nato inizialmente all'interno del progetto AngularJS e successivamente evolutosi e diventato un progetto autonomo. Quindi Karma verrà utilizzato per eseguire in maniera automatica i test nella nostra applicazione. Test che potranno essere eseguiti sia all'interno di browser che nel caso in cui non volessimo avere un browser in cui far girare i nostri test all'interno di un tool che girata con online. In questo caso possiamo scegliere di utilizzare PhantomJS per installare il nostro applicativo che eseguirà i test. Iniziamo quindi andando a installare questi strumenti. Iniziamo l'installazione delle applicazioni richieste partendo da Node.js. Node.js può essere installato o utilizzando il Package Manager della propria distribuzione Linux o l'installer messo a disposizione per sistemi Windows oppure utilizzando l'installer messo a disposizione per applicazioni OS X. Una volta installato Node.js possiamo utilizzare NPM che è un tool messo a disposizione appunto a Node come installatore di pacchetti per Node.js per installare gli altri componenti che ci servono. Iniziamo appunto installando Bower. L'installazione viene effettuata utilizzando NPM install specificando il flag G per indicare che sia stata l'installazione del componente a livello globale e non specifico di questo singolo progetto e indicando il nome del pacchetto da installare. Una volta avviata l'installazione il sistema andrà a scaricare da NPM.js.org le informazioni relative a questo pacchetto e si occuperà di andare a scaricare tutti i file necessari. Proseguiamo quindi l'installazione utilizzando e installando anche i vari componenti relativi a Grunt, Human, Human Generator e Karma. Per fare questo utilizziamo sempre NPM con flag G per installare Grunt, per installare Human e per installare il suo Generator. Infine possiamo procedere con l'installazione di Karma. Una volta stati questi strumenti possiamo procedere con l'installazione appunto di Phantom.js quale strumento per l'esecuzione di cosa c'è JavaScript all'interno della nostra console. Per fare questo in base al tipo di sistema operativo che stiamo utilizzando dovete scaricare e compilare le applicazioni. Per ambienti OS X potete utilizzare Briu che procederà appunto con l'installazione dei file sorgenti e la compilazione degli stessi. Una volta che abbiamo le nostre applicazioni installate possiamo controllarlo attraverso il controllo delle versioni dei singoli componenti. Abbiamo installato Power, abbiamo installato Human, abbiamo installato Karma e abbiamo installato Phantom.js. A questo punto abbiamo installato tutto quello che riguarda le componenti necessarie per l'installazione della nostra applicazione. Iniziamo ora a realizzare la nostra applicazione. Creiamo innanzitutto la cartella necessaria a contenere le informazioni della nostra applicazione. Una volta creata la nostra cartella possiamo utilizzare Human con il generator per l'applicazione in Angular per effettuare lo scafondo in iniziale dell'applicazione. Per fare questo digitiamo U indicando che si tratta di un'applicazione Angular.js e specificando una serie di flag necessari a indicare quali sono le specifiche secondo cui stiamo creando il nostro progetto. Innanzitutto il nostro progetto verrà compilato con l'opzione MinSafe in modo che l'applicazione realizzata possa successivamente essere minificata. Indichiamo inoltre che vogliamo eseguire i nostri test indicando appunto utilizzare Karma come runner e indicando poi la cartella in cui verrà realizzata lo scafonding dell'applicazione. Ci verranno quindi chieste quali sono le componenti ulteriori che vorremmo andare a installare. Ci viene appunto chiesto se vogliamo installare Twitter Bootstrap. Se vogliamo utilizzare l'angular resource vedremo successivamente cosa si tratta. Angular cookies, sanitize. Nel momento in cui abbiamo confermato le nostre informazioni vediamo che la nostra applicazione sta creata dentro la cartella corretta. Abbiamo appunto un file grantfile.js che è quello che conterrà le informazioni relativa alle task che verranno eseguiti da grant, la nostra applicazione vera e propria, il bower con il suo file di configurazione, il file di configurazione per npm e i test che verranno eseguiti attraverso Karma. Una volta appunto creata la nostra applicazione procediamo con l'installazione di tutti i componenti necessari. Iniziamo con bower. Questo comando prenderà le informazioni presenti nel file bower.json e scaricherà tutti i file necessari. In questo caso specifico sta scaricando tra informazioni relative a AngularJS, informazioni relative agli strumenti di testing necessari per AngularJS. Procidiamo poi con l'installazione delle dipendenze JavaScript. e infine inizializziamo Karma. Anche in questo caso ci viene chiesto quali sono i possibili strumenti di test che vogliamo andare a utilizzare. In questo caso utilizzeremo Jasmine. Se vogliamo utilizzare require.js. Se vogliamo catturare le informazioni utilizzando quale strumento. Possiamo utilizzare tra Chrome, Chrome, Canary, Firefox, Safari, PhantomJS. Nel nostro caso avendo installato PhantomJS scegliamo di utilizzare questo strumento. Quali sono i file che vogliamo andare a testare? Nel nostro caso i file che andiamo a testare si trovano all'interno delle seguenti cartelle. Quindi componenti di AngularJS, strumenti di mocking, gli script della nostra applicazione e i test che vogliamo andare a eseguire. Eventualmente se volessimo escludere alcuni file dalla nostra fase di test e se vogliamo eseguire l'esecuzione di test ad ogni salvataggio di test di file modificati. Una volta fatto questo possiamo controllare che il nostro file karma.conf.js sia stato settato correttamente. Abbiamo un punto specifico, quali sono i file che devono essere inclusi, il modo in cui viene riportato il progress del sottavanzamento dei test, su che porte gireranno i nostri test, il fatto che i test vengono eseguiti al salvataggio dei nuovi file, quali sono gli strumenti attraverso cui verranno eseguiti i test. Andiamo a modificare poi il single run per indicare che è un'operazione che non chiuderà la piattaforma di test una volta avviata, ma la terra aperta per monitorare il cambiamento di file e quindi rieseguiti i test ogni volta. Fatto questo possiamo controllare che un karma stia funzionando eseguendo il comando grant karma. Vediamo che a questo punto lo strumento controllerà l'esistenza del browser phantom.js, eventualmente eseguirà i test presenti nel strumento e ci darà un report sull'informazione relativa a questi test. Nel momento in cui scegliamo di utilizzare un altro strumento per l'esecuzione dei test, quale ad esempio Chrome, e rieseguiamo i test, vedremo che verrà aperta una finestra del browser all'interno di cui verranno eseguiti i test e una volta tutto questo stato effettuato il browser verrà chiuso. All'interno di cui scegliamo di test, Grazie a tutti.